Ebbene, ritrovati a tutti ragazzi, questa è una nuova home screen, l'avete vista nel video LG G6 un mese dopo, se ve lo siete persi, partirà adesso una scheda interattiva, vi è piaciuto lo sfondo, vi sono piaciute le nuove icone, vi è piaciuto il widget del meteo, insomma, wertz, facci vedere questa nuova home, quindi come sempre, escila e fai partire la sigla! Allora, il pacchetto icone si chiama Oreo, riguarda ovviamente la futura versione di Android, sapete bene la 8.0 che uscirà più avanti nel corso del 2017, è un pacchetto icone di uno sviluppatore italiano, costa 1,99€, la sua particolarità è avere l'altissima risoluzione di 300x300 pixel. Vi faccio vedere più nel dettaglio le icone, vedete come sono davvero risolutissime su questo display QHD di LG G6, fanno la sua sporca, anzi la sua porca figura, davvero un pacchetticone che a me piace tantissimo, il suo precedente riguardava la MIUI, non mi faceva impazzire, ma questo in pieno stile Nougat, è veramente, anzi scusate, in futuro stile Oreo, è veramente un pacchetticone che a me piace molto, costa ovviamente 1,99€, ma li vale tutti i ragazzi, potete anche richiedere allo sviluppatore tramite il tab di richiesta delle icone, qualsiasi icona mancante, lo sviluppatore ovviamente cercherà di fare il possibile. Today Weather è un'applicazione gratuita, fa parte della mia home screen, l'avete vista nella parte alta il widget, è un'applicazione gratuita per il meteo, davvero molto interessante secondo me, è validissima, ci prende anche abbastanza e questa non è una cosa da sottovalutare, vedete ecco qua il widget del meteo con accanto l'orario, si può interagire con tanti widget all'interno di questa applicazione, non c'è solamente questo, abbiamo anche un 4x2, abbiamo tanti widget proprio all'interno dell'app stessa, ecco perché io ve la consiglio ed è anche gratuita. Troverete anche lo sfondo nel link in descrizione, quindi state ben attenti anche a questo wallpaper, molto bello secondo me e soprattutto stacca abbastanza sul rilievo delle icone e quindi l'ho scelto per questa nuova home screen. Il launcher ragazzi è il nuovo launcher, ormai sapete che io sono affezionato a questo tipo di launcher, ma potete installare quello che più vi piace. Ma è per oggi ragazzi veramente tutto, io come di consueto vi ringrazio, vi saluto, vi invito a schiacciare un bel like, a condividere il video e noi ci sentiamo nei prossimi video!